Il 20 ottobre si avvicina e con esso la definitiva chiusura di una vicenda, quella legata alla legge Severino, che pende come una spada di damocle sulle sorti del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del governatore della Campania Vincenzo De Luca. La notizia delle ultime ore arriva da Roma e il governo ha deciso di scendere in campo a difesa della legge Severino. Il 20 ottobre la consulta sarà chiamata a decidere sulla legittimità del decreto legislativo, sull'incandidabilità e la sospensione di parlamentari e amministratori locali. L'esecutivo, tramite l'avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio con ben due memorie sulle ragioni per cui vanno respinti tutti i dubbi di costituzionalità sollevati dal Tar Campania, sul caso del sindaco De Magistris, gli stessi dubbi che però riguardano da vicino anche Vincenzo De Luca, che dopo essere stato candidato dal BD e proclamato eletto a giugno, ora rischia di essere sospeso sempre per effetto della legge Severino. L'ultima delle due memorie, firmata due settimane fa dagli avvocati dello Stato, Gabriella Palmieri, Agnese e Soldani, chiede innanzitutto che la questione che riguarda De Magistris sia rigettata perché inammissibile. Una scelta netta, quella del governo Renzi. Dal 2012 l'abuso di ufficio è stato incluso nella lista dei reati che dal 1990 determinano la sospensione fino a 18 mesi degli amministratori locali condannati in primo grado. È il caso sia di De Magistris sia di De Luca, e entrambi hanno denunciato la violazione del principio di retroattività di una legge che li colpisce per fatti anteriori alla loro elezione. Ma secondo l'avvocatura il problema della retroattività non si pone perché la sospensione dalle cariche elettive in presenza di una condanna non definitiva non è un istituto nuovo al nostro ordinamento. fu introdotto per la prima volta con la legge 55 del 90 e poi confermato ed esteso nel 2000. Dunque la Severino non ha fatto altro che ampliare all'abuso di ufficio l'elenco di una serie di reati previsti da 25 anni. Non solo, chi solleva a difesa di De Magistris e De Luca il problema del governo degli enti e del rispetto del voto dei cittadini non considera, secondo l'avvocatura, il fatto che la sospensione è limitata a 18 mesi e dunque temporanea. Resta però il dato politico, devastante per comune e regione. e resta sullo sfondo un cambio di rotta del governo con una costituzione in giudizio che di certo non aiuterà il presidente De Luca che ora si ritrova nuovamente solo in una battaglia che continua a condurre con i suoi pochi fedelissimi a denti stretti e senza nessuna intenzione di mollare.